E' in fase di superamento l'emergenza maltempo in provincia di Pesaro Urbino dopo che le piogge di oggi hanno dato maggior tregua di quanto temuto dalle previsioni meteorologiche che ieri avevano prolungato l'allerta arancione. A Pesaro è stata una giornata in cui è stato costantemente monitorato il livello di piena del fiume Foglia, andato ben oltre gli argini fra le zone di via Furiassi, via Ponchielli e via del Carso, ma con disagi contenuti anche grazie alla gestione del deflusso di acqua dalla diga di Mercatale, cominciato già da lunedì sera. Ha abbassato il suo livello anche il torrente genica dopo l'esondazione con allagamenti di strade, attività e abitazioni nella giornata di ieri, soprattutto in zona Loreto che oggi è tornata gradatamente a ripulirsi. Non ci sono stati 90 mm di pioggia di martedì e allora la giornata è stata trascorsa a rimboccarsi le maniche nel lavorare all'attenuazione dei danni. Innanzitutto a gestire la spaccatura della città creata dall'interruzione del sottopassaggio di via Gradara che ha congestionato il traffico in zona Tombaccia. Sottopasso interrotto anche via Bondei al San Decenzio con gli operatori del comune al lavoro per il ripristino. San Decenzio che anche questa mattina si presentava con parcheggio ricoperto dal fango al pari del cimitero centrale che sarà riaperto al pubblico nella giornata di domani. Nella stessa zona vigili del fuoco al lavoro nel parcheggio del tribunale completamente sott'acqua che ha sommerso una ventina di automobili negli stalli sotterranei. Allagamenti in varie zone compreso il campo sportivo di Vismara diventato una vera palude. Non solo allagamenti però a causa dell'impraticabilità degli impianti di ricezione oggi in buona parte della città non si è potuta effettuare la raccolta dei rifiuti da parte di marche multiservizi e poi ci sono state frane e smottamenti che si sono accanite in gran parte dei territori collinari così come fra le criticità maggiori c'è stato un traffico autostradale fortemente viziato dagli allagamenti che hanno messo in ginocchio l'Emilia Romagna e lo stesso transito in A14. Una situazione che ha chiuso a lungo anche il casello di Pesaro in direzione Bologna e in uscita per chi proveniva da sud.